È una giornata importante che abbiamo collocato all'interno del percorso costituente del Partito Democratico. È un periodo di grande discussione, di grande confronto, anche di grandi dubbi. In questo periodo si colloca anche la fase annuale del tesseramento, per cui da quest'anno la modalità è quella telematica online, che richiede uno sforzo più preciso e delle modalità tecniche più organizzate. Per questo motivo che teniamo la sede aperta per tutto il giorno, per amici simpatizzanti, iscritti, che vogliono rinnovare l'adesione e vogliono anche approfittare per una discussione. C'è previsto un momento di dibattito, di assemblea, al mattino, alle 10.30, alla quale saranno presenti il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e Marco Bentivogli. L'assemblea, l'abbiamo appunto titolata, tra la costituente del Partito Democratico e le urgenze del Paese. Questa giornata la vogliamo anche caratterizzare con una modalità semplice, di raccolta di generi alimentari, che poi consegneremo agli enti caritativi della città, proprio per segnare questa dimensione di un partito che cerca di essere vicino alle situazioni di bisogno. Non un partito elitario, ma un partito che, se deve rimettere le basi per una ripartenza, lo fa ripartendo dalle situazioni di attenzione ai bisogni della città. No! 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 Grazie a tutti.